Quando abbiamo vinto cinque aeroporti su cinque, nessuno mi ha chiesto come avevo fatto. Chi credi abbia portato questo baraccone dove è oggi? Io. Che ho sviluppato la rete, il trading, le alleanze. Io ho guardato i rocchi. Mi guardava a me, fissa. Era ancora viva. La prossima settimana farei un colloquio con uno dei miei e parlerai delle tue esperienze. Devi essere pronta. Le garanzie ci penso io. Ma se uno ti infiò nel ferroviere e ti dava tutti questi soldi? Sei fuori perché lo hanno voluto i soci. Farò vedere che razza le stronza sei! Ed, aiutami! Sei nella lista degli indagati. Non deve sapere niente nessuno. È mia, l'ho progettata io. Se c'è sano dei simoni... Ma ti sei scordato che ti faccio a guadagnare questa azienda? Penso sono tre mesi che aspetto. Il prezzo è giusto, diarete a me. Chi sei? E ti! Mi trascino tutti nella merda.